Ok. Procederei con la condivisione dello schermo. Eccoci qua. Bene. La tecnologia ci supporta. Allora. Benissimo. Allora. Prima ancora di questa cosa qui vi do un'altra cosa, un'opportunità che attraverso un ragazzo del nostro staff stiamo portando avanti. Per chi volesse iniziare un percorso serio di apprendimento e soprattutto avere l'opportunità di entrare nel mondo strettamente palavolistico in questo caso, c'è lo scoutman della mia società che mette in piedi un percorso del tutto gratuito che è di fatto uno strumento di formazione personale per chi volesse intraprendere un percorso all'interno di, diciamo, di uno staff comunque già di medio-alto livello. Ecco. E vi garantisco che questo tipo di formazione ha un grande mercato, logicamente richiede un minimo di conoscenza e, diciamo, attitudine allo sport ballagolo. Questo è ovvio. Però, per darvi idea di quello che è la portata di questo progetto, a parte il fatto che, vabbè, è una cosa tipo di 8-10 ore, insomma, 4-5 appuntamenti da 2 ore, qualcosa del genere, ci dà... è stato esattamente il percorso che io ho condotto per iniziare la mia carriera a livello professionistico nel mondo della pallavolo. Quindi, eventualmente, se qualcuno... il corso è strutturato, qui ci sono le dati, ci sono le varie condizioni, totalmente gratuito, nel caso qualcuno inerente al modulo della pallavolo volesse affrontare questo tipo di discorso, mi contatta e io gli do tutte le specifiche del caso per, diciamo, per affrontare, per poter fruire di quest'opportunità ed, eventualmente, vi garantisco, ripeto, è un percorso che, lavorativamente parlando, quindi per chi vuole aspirare a fare un percorso di tipo lavorativo, sottolino il lavorativo, nel mondo della pallavolo, è sicuramente una buona occasione. Ho parlato con il docente, che è un mio collega, e ho chiesto l'opportunità di farvi poter, eventualmente, proporre invia del tutto gratuita, è un'opportunità in più. Ah, tra l'altro, nel caso, come qualcuno di voi ha già sfruttato, facesse, diciamo, avesse già attivato, ecco, il tirocinio con il custorino e attraverso, diciamo, la sezione pallavolo, quindi con me, queste ore vengono assoggettate al volume totale delle ore di tirocinio. Questa è, ripeto, una cosa, una nota a margine, ecco, mettiamo la cosa. Adesso ci addentriamo, però, su quello che è il tema più importante della giornata, massima attenzione. Allora, parliamo di questa prova, che sarà una prova di esonero, quindi il materiale che verrà esaminato non sarà più oggetto d'esame finale in prova d'appello. Ok? Cerchiamo di capire bene quali sono le condizioni, cerchiamo di capire bene quali sono le modalità. Allora, in prima istanza, la prova sarà esattamente aderente alle condizioni dell'esame finale, quindi una prova con domanda, risposta multiple, la quattro opzioni. La risposta esatta assegnerà un punto, la risposta mancata, quindi non esplicitata, 0 punti, la risposta sbagliata, meno 0,1. Il test sarà composto da 10 domande e 8 punti finali assegnati. L'assegnazione dei punti verrà fatta in via del tutto proporzionale. Allora, questa situazione delle 10 domande per 8 punti è una questione che è logistica organizzativa per quanto riguarda la commissione complessiva del modulo degli sport di squadra, perché abbiamo alcune esigenze di divisione del materiale e delle prove. per far sì che la situazione potesse essere calzante e maturare un volume di punti adeguato per quello che è il percorso complessivo, quindi la vostra valutazione finale dell'esame di sport di squadra, questa è la ripartizione che abbiamo deciso di assegnare. Le condizioni che ho proposto precedentemente sono esattamente quelle che verranno eseguite in fase di analisi del compito, quindi risposta esatta più 1, risposta mancata 0, risposta errata meno 0,1, che significa che se io su 10 domande assegno tutto giusto, prenderei 10 punti, ma in realtà la mia valutazione sarà di 8. Come arriviamo a questa condizione? Attraverso una semplice proporzione, qui vi ho portato un esempio per capire meglio, quindi facciamo finta che io realizzo 6 punti, se risolvete questa facile proporzione, vi viene fuori 4,8, che verrà normalizzato a 5 punti assegnati. Quindi i punti prodotti all'interno della prova avranno una normalizzazione percentile sui 8 punti assegnabili per tale esonero. La normalizzazione segue le logiche che sosteniamo anche in prova d'esame finale, quindi fino a 0,5 viene fatta per difetto, da 0,6 viene fatta per eccesso, significa che se prendo 4,5 vengo normalizzato a 4 punti realizzati, da 4,6 vengo normalizzato a 5 punti. è una regola di base che sosteniamo e questo ci determina per forza una necessità di un certo punto di fare uno spaccato. Il tempo a disposizione sarà di 8 minuti di lavoro. La sequenza delle domande sarà assolutamente randomizzata, quindi questo per garantire la serietà della prova. Avremo noi docenti caricato un volume di domande elevato sul nostro deposito domande. La piattaforma Moodle dove si terrà fisicamente il compito, che penso, immagino, che abbiate già avuto esperienza anche magari dal passato an accademico riguardante questo tipo di prove, formulerà una serie di compiti variati ad hoc ad personam da quel volume di domande. Quindi i compiti di fatto saranno sempre diversi in termini di proposta di risposta, proposta di opzioni di risposta, proposta di domande. Quindi ogni compito avrà delle varianti. Questo ovviamente per garantire un certo tipo di validità della prova e evitare passaggi di informazioni inadeguate, soprattutto il fatto, dato dal fatto che siamo, come vi ho già scritto in questa slide, divisi per corsi. Quindi ci sarà chi di voi, voi del lunedì, lo sosterrete prima e chi dopo durante il corso della settimana. Questo per garantire comunque un certo tipo di possibilità di avere comunque un'analisi corretta ed effettiva della preparazione di ogni candidato. Per intendersi, io personalmente caricherò una circa 150 domande da cui verranno estratte e randomizzate le vostre 10 domande del test che saranno sottoposte ad altre quattro opzioni di risposta. Quindi di fatto abbiamo una casistica di risposta molto, molto, molto variata che non ci permetterà di avere comunque alcun problema sotto il punto di vista della validità della prestazione. Prego, prego. Senza problemi. Da che parte della, diciamo, su che tema logistico ci verterà questo tipo di prova? La divisione dovrebbe essere in teoria sul primo semestre. Io per comodità, anche per divisione di tematica, ho deciso di farlo sulle prime 10 lezioni dell'anno accademico. Ok? Quindi voi avete sul nostro Moodle, sul mio Moodle personale, le 10 lezioni ripartite. Voi sapete che potete ricevere delle domande a carico di queste 10 lezioni sostenute. Ok? Quindi il tema verterà su queste prime 10 lezioni, all'incirca metà del programma. La procedura che verrà sostenuta dalla collega di basket sarà esattamente la medesima che vi ho appena condiviso. Quindi il programma di basket sarà con le stesse identiche specifiche, le stesse specifiche, l'unica variazione sarà probabilmente sulla scelta del tema, delle vostre componenti fatti da portare in fase di analisi, di esame, che potrebbero vertere nel suo caso sul primo semestre. Però diciamo che la variazione dovrebbe essere minima in termini di volumi di informazione. Cosa è importante? Per motivi, diciamo, di normalizzazione, per motivi di, diciamo, anche qui logistici in termini di parificazione di quest'anno accademico, del tutto particolare rispetto a quelli che sono stati, che saranno in particolare gli anni futuri, questo esonero avrà validità di valutazione fino alla sessione d'esami di febbraio 2022. Questo perché? Perché fino a febbraio 2022 il programma oggetto d'esame specifico per quanto riguarda modulo basket, pallavolo e giochi sportivi sarà esattamente quello che state per sostenere. Dopo questa sessione d'esami i punti che avrete maturato decadranno, non varranno più. Questo è un punto molto importante per evitare poi discussioni, soprattutto nel caso qualcuno non sostenesse nelle sessioni immediatamente successive, alla fine del corso complessivo, e evitare appunto di, insomma, che venga messo agli atti questa cosa. Quindi queste valutazioni che maturerete, nel caso decidiate di affrontare questa prova, saranno valide fino a febbraio 2022. Non è prevista una votazione minima, quindi non c'è un minimo da raggiungere in termini di punti per superare la prova o meno, inteso come si andrà per accettazione o non accettazione. Quindi facciamo un esempio, io prendo tre punti sulla parte dell'esame, diciamo, del modulo di pallavolo, mi stanno bene, li accetto, io parto per quanto riguarda il modulo pallavolo risolto da più tre punti. Quindi non c'è bisogno di prendere, ad esempio, 4,2, 4,5 per avere la sufficienza. Il tema è superato o, diciamo, accettato o non accettato. Esiste di fatto un'unica condizione che non permetterà di accettare di fatto l'esonero e la condizione in cui vengono a sommarsi 0 punti più 0 punti. 0 punti del modulo pallavolo, 0 punti del modulo basket. Perché questo implica il fatto che voi non possiate raggiungere la sufficienza di 18 punti, dove lì sì, in sede di esame, è necessaria, per arrivare al minimo consentito per la registrazione dell'esame accadeico. Quindi non c'è prevista votazione minima. L'unico caso in cui vogliate e siete obbligati di fatto a rifiutare è nella condizione in cui 0 punti vengono effettuati sia nel modulo di basket, sia nel modulo di pallavolo. Il numero minimo è 2, perché assegniamo complessivamente 16 punti, 8 di basket e 8 di pallavolo, e a fine anno saranno gli stessi punti che vi permettono di arrivare al 18 eventualmente. C'è il vincolo dell'accettazione complessiva sia della pallavolo sia del basket. Inteso. La prova di pallavolo e la prova di basket saranno in via separata, quindi noi ci facciamo, secondo le nostre giorni orari, la prova di volley, ci sarà la collega di basket che sosterrà nelle stesse modalità, ovviamente sulle sue tematiche, la prova di basket, facciamo finta che un candidato prenda 8 punti di pallavolo e 0 punti di basket, o accetta entrambe le prove o le rifiuta entrambe. Non può accettare gli 8 punti di pallavolo e portarsi l'esame di basket al fondo, dovrà rifare tutte e due le prove oppure accettare entrambe le prove. Questo è un vincolo necessario per sostenere l'esame finale nelle modalità a distanza per quanto riguarda la piattaforma di riferimento per una sorta di problema, diciamo, di tipo logistico e organizzativo che non permetterebbe altre varianti in corso. Quindi o accetto tutto o rifiuto tutto. Professore, scusi, posso interromperla per una domanda perché poi sono che mi dimentico. Ma se io decidessi, cioè io non posso decidere quindi di fare l'esonero di pallavolo ma non quello di basket, se scelgo di farli devo fare entrambi, vero? Allora, il punto Alessia è che se ne fai solo uno, ti prendi solo i punti della... No, no, questo certamente, poi se io decidessi di fare... Tu puoi farlo, però nel senso che uno dei due fa 0, capito? Cioè, se dai solo pallavolo e ti prendi solo i punti di pallavolo... Ok, poi a giugno non posso dare tutto l'esame di basket completo o viceversa? No, non è possibile questa modalità perché, ripeto, è un problema di tipo logistico. No, no, ma era una domanda più generale se magari... No, no, esatto, io ti do la risposta e la motivazione, capito? Non è per una presa posizione arbitraria da parte della commissione. E perché logisticamente non possiamo sostenere una variabile del genere, ecco, questo è il punto. Però la risposta alla tua affermazione è esattamente sì. O do tutte e due, oppure non do nessuno, oppure se decido di darmi solamente uno, so già che l'altra prova mi verrà assegnato a 0 punti. Sì, sì, però darne uno solo è un po' fregarsi da soli. Esatto, esatto, questo è un po' il punto di fatto. Grazie mille. Di niente. Quindi qui, come vi dicevo, la prova dei due moduli fornisce una valutazione complessiva, quindi verrà fatta di fatto una somma matematica dei risultati che rappresenterà il vostro voto complessivo dell'esonero. L'accettazione di tale voto sarà per silenzio assenso dopo cinque giorni dalla prova. Inteso, non do riscontro al docente di riferimento per quanto riguarda la prestazione e la prova, non do alcun tipo di riscontro, l'esame viene registrato. Silenzio assenso. Non dico niente, vuol dire che accetto. Se invece lo voglio rifiutare, lo devo fare in via dichiarativa. Devo comunicare in via ufficiale tramite mail l'esigenza del voler rifiutare entro cinque giorni dalla data in cui viene sostenuta la prova. Per quanto riguarda la comunicazione delle votazioni ai candidati, c'è la modalità ancora da definire. Perché dobbiamo capire che la valutazione è logica a tutte le persone che intenteranno la prova, la valutazione attraverso o il canale ufficiale della mail, oppure attraverso la piattaforma. Quindi ci sono alcuni dettagli ancora da definire da questo punto di vista, però insomma confidiamo nel fatto di avere ancora un po' di tempo per poter far calzare queste ultime questioni che sono questioni meramente tecniche. Operatività vostra. Ovviamente è un esame. Quindi l'esame viene sostenuto con documento di riconoscimento, quindi in fase di prova dovete avere i documenti da mostrare, ci sarà riconoscimento. Ovviamente sotto il punto di vista del hardware, inteso come prova di device, di computer a disposizione, è necessario avere la videocamera accesa e avere la connessione stabile. Se il candidato per qualsivoglia motivo si scollega tramite webcam, ovviamente non potendo garantire la regolarità della prova, verrà prima intentato un discorso di richiamo e poi sospensione della prova. Però queste cose saranno poi ovviamente anche ripetute in maniera molto più approfondita quando saremo in data dell'esonero. Ecco, questo saranno poi comunque intanto in ogni caso vi dovrete organizzare in maniera molto precisa perché poi l'esame finale sarà condotto esattamente nella stessa maniera. La data deputata all'analisi alla prova è la settimana entrante da lunedì 10 maggio, quindi un mese di tempo diciamo per portare avanti la vostra performance in termini di esame. Giorni e orari di riferimento sono percorso di appartenenza, quindi qui ci divideremo per tutti i corsi, quindi lunedì mattina ore 8 e 30, lunedì mattina ore 10 e 30, tutti i corsi verranno suddivisi, quindi la validità della prova è garantita dalla randomizzazione delle domande e basta, questo è il punto. Quindi ognuno fa la prova assieme al proprio corso di riferimento. Tematiche, iscriversi alla pagina dell'insegnamento, fondamentale, perché mi necessita, come chi non l'avesse già fatto, mi necessita per iscrivervi alla piattaforma Moodle dove dovrete sostenere l'esame. Entro e non oltre il 3 maggio ho bisogno dell'elenco degli iscritti. Quindi avete fino al 3 maggio per decidere se volete sostenere o meno la prova di esone. Non potete svegliarvi, tra virgolette, la settimana successiva e dire lo provo. Perché? Perché dobbiamo dare una deadline di iscrizione, dobbiamo dare una deadline di, diciamo, di pianificazione logistica per far sì che si possa organizzare la piattaforma per sostenere le prove separate. La comunicazione dei candidati, quindi di chi vorrà sostenere l'esame, verrà comunicata a me, nel mio caso al sottoscritto, attraverso il vostro referente di corso, che è una carica ufficiale, quindi una carica detta ufficiale, quindi ha un compito ufficiale, dove mi comunicherà i nomi dei candidati su un foglio Excel ordinati in ordine alfabetico con mail e numero di matricola. La situazione è banale, se vogliamo, basta che il responsabile del corso crei un foglio condiviso di Excel e faccia compilare agli eventuali candidati la propria adesione o meno, o meglio, solo nel caso in cui uno voglia aderire o meno alla prova, e me la comunicherà entro la data che vi ho indicato. Questo sempre per far sì che ci sia una condizione più snella, più, diciamo, performante possibile, su quella che è la prova che poi verrà a doversi sostenere il giorno dell'esame stesso. Questo è il punto, questo è il punto di base da cui partiamo. Ok? Quindi, direi che per quanto riguarda questa tematica, ho detto tutto quello che avevo da dire, spazio alle domande, perché immagino che ci saranno delle cose... Ecco, infatti, perfetto. Cecilia, vai, spara. Scusi, non so se non l'ho recepito io o meno, ma i due esoneri saranno in due momenti diversi e in due dati diversi? Sì, la prima settimana iniziamo noi, il 10 iniziamo noi. Ah, ok, quindi il 10 è pallavolo e poi basket... La settimana... tendenzialmente la settimana successiva. Questo perché il modulo di basket è leggermente più estensivo di quello di pallavolo. Cioè noi abbiamo 120 ore, con 10 ore extra per quanto riguarda le parti, diciamo, dei giochi sportivi, e invece il modulo di basket ha 130 ore. Quindi per questo motivo facciamo noi la parte, diciamo, prima e poi la collega farà la settimana successiva. Perfetto, grazie. E comunque sì, via assolutamente separata. Credo che poi la vostra professoressa comunque vi farà comunicazione a riguardo di quello che riguarda. Ok, sì. Professore, io avrei alcune domande anche. Vai, vai, spara. Allora, per quanto riguarda la data di scadenza della validità, febbraio 22, compreso quella sessione... Compresa. Quella sessione non vuole più. Compreso. Ok, quindi prima... E come è da regolamento d'Ateneo, eh? Ok, perfetto. Poi, per quanto riguarda invece, più sul pratico, quando si fa l'esonero, nonostante il tempo poco, si può tornare indietro nelle domande, oppure una volta data la risposta, non puoi più tornare indietro? Allora, ci sarà navigazione nelle domande, diciamo, sequenziale, quindi tendenzialmente si dà la risposta e si va avanti. Quindi diciamo che non puoi tornare indietro, in teoria. Quindi guardi, analisi, rispondi. È una domanda, è una... Insomma, sono risposte a risposta multipla, cioè domanda a risposta multipla, quindi questa è una modalità che è stata decisa già nella passata sessione d'esami e per far sì che ci sia un'informità di giudizio nei confronti di tutti, dobbiamo continuare a sostenerla. Ok, perfetto. Invece l'ultima, per quanto riguarda la modalità di correzione barra valutazione, per evitare giri lunghi non si potrebbe fare la correzione automatica delle domande? Già, la correzione automatica, però bisognerà fare la normalizzazione tramite proporzione, come ti ho spiegato all'inizio. Però avendo fuori già quel risultato, teoricamente, cioè, se non ha una proporzione, dovremmo capirlo subito, la votazione finale. Come ti ho già spiegato, Matteo, dobbiamo ancora decidere come comunicarvelo, perché ci sono anche delle tematiche di privacy. È logico, noi abbiamo... l'esito ce l'abbiamo immediatamente. Appena voi staccate, io l'esito ce l'ho. Però, per comunicarvelo, ci sono delle modalità di privacy che non posso pubblicare tutti i... i voti. Certamente, però comunque lo vede solo chi ha fatto quella prova, la sua votazione, non viene in automatico. Non è consentito dalle prove di Ateneo sui temi di esame. Ah, ok. No, perché l'avamo fatto con altri, quindi pensavo si potesse. In teoria non si potrebbe. In teoria non si potrebbe. Quindi, ah, ok. Quindi, cioè, almeno a questo... Attenzione, io la compro così e così la vendo, perché non sono lo specialista per quanto riguarda i regolamenti. Mi è stato detto che questa è la condizione e io te la riporto così come è stata... come mi è stata proposta e come mi è stato chiesto di riportarvele. Assolutamente, certo. L'ho fatto solo presente appunto perché l'ho fatto con altri corsi, solo per quello. Benissimo. A posto. Posso chiedere, se non c'è nessun altro, posso farle ancora due domande? Tre o quattro, siamo qua apposta. La prima era per il Moodle. Lei usa un Moodle diverso dalla professoressa di basket, quindi saremo sul suo Moodle per pallavolo e sull'altro... Esatto. Non giusto per non impazzire il giorno dell'esame, perché poi ci impanichiamo e... Tranquilli, tranquilli. Per quanto riguarda, ho bisogno appunto dell'elenco delle mail nel dettaglio per potervi inviare tutte le condizioni che saranno i link di accesso a quel Moodle in... Diciamo, per far sì che molto semplicemente immagina il disco... Il Moodle è aperto, no? Quindi tutti chi, tutti i partecipanti al corso di laurea in scienze motori al secondo anno possono accedere al mio Moodle. se questa cosa non viene filtrata attraverso delle mail, attraverso dei filtri, tutti possono andare a vedere la prova di esame anche senza sostenerla. Quindi, l'esigenza di avere l'elenco preliminare e la mail è proprio per questo tipo di discorso, per poter inviare i link alle persone, diciamo, ai candidati per poter far sì che tutto venga svolto in maniera più lineare possibile. Ok, certamente, grazie. E poi, per quanto riguardava invece quel video, cioè quella serie di video per l'esonero pratico che poi è stato annullato visto che l'ha scritto anche sotto quello, per chi eventualmente volesse sempre, se prenderà più di 27, quindi mandarle poi video, possiamo già comunque caricarli come era indicato lì? Sì, penso che non ci siano problemi, assolutamente. Perché non diciamo che ci spero, quindi visto che... Certo, va benissimo, va benissimo. Allora facciamo una cosa, per gli eventuali candidati a questa situazione mettiamo una comunicazione anche tramite filtro, mi mandi una mail in via, diciamo, personale mia, così io so che tu comunque caricherai e comunque la piattaforma è attiva. Ok, perfetto. Grazie mille. Niente. Altre domande ragazzi? siamo al punto. Sì, io volevo chiedere una cosa sul programma. Certo, vai Lidia. Quindi, proprio in specifico, perché io ho le slide di Moodle davanti, il programma, quindi dell'esonero di maggio, finisce con la prevenzione degli infortuni nella pallavolo, caviglie e ginocchio, che mi risulta essere la slide dell'ezione 10. Se è la slide numero 10 è l'ultima. Esatto, subito lo verifico, ma direi che, guarda, facciamo una verifica in via del tutto diretta. Vediamo un po'. L'ezione 10. Arti inferiori, corretto. Ti confermo che queste qui sono le tendinopatiche, esatto, la 10 è l'ultima cosa che sarà tema di esame per quanto riguarda questa specifica parte di prova pratica. mettiamola così. Ok, perfetto, grazie, grazie mille. Niente. altre domande? Ok, allora, vi lascio un attimino in attesa e intanto ragionate sul discorso se volete che parliamo della della lezione della passata settimana sulla parte di metodologia, se volete che la riprendiamo insieme, visto che non l'avevamo fatta frontalmente, se invece poi avete già visto che ho caricato la lezione e mi basta fruirla da lì, va bene così. Vi chiedo comunque di rimanere un attimo in linea perché proprio adesso la collega di basket mi ha contattato per per avere penso degli accertamenti riguardo a questa tematica, quindi vi chiederei di rimanere un attimino lì in ogni caso per dirvi se ci sono degli aggiornamenti a riguardo della prova. Quindi ci prendiamo cinque minuti di pausa e ci ricolleghiamo alle undici e cioè nel senso state dentro non scollegatevi ve lo scrivo anche in chat Scusi professore posso farle una domanda prima della pausa o preferisci la faccia dopo? No no fammela anche subito se vuoi se è riguardante questa parte qui se no ti riguarda l'esonero comunque l'esame ma non ho capito se alla fine la parte pratica cioè mi ha confuso un attimo Alessia perché avevo capito che la parte pratica non era fattibile e invece adesso lei ha detto che invece forse è fattibile mi spiega solo un secondo allora Alessia ha chiesto per la parte del tesserino FIPAV è un'altra cosa se tu vuoi ambire a prendere il cartellino FIPAV io dovrò fare l'analisi della tua parte pratica per da mandare a poi in via fedele le condizioni sono che prendi più di 27 complessivamente sugli esami di sport squadra se invece non diciamo in termini accademici strettamente accademici quindi per quanto riguarda il modulo pallavolo quella parte lì è sospesa per le note condizioni sospese sostituite da questa parte teorica va bene? sì chiaro grazie scusi niente figurati allora professore mi scusi stavo guardando Moodle mi è venuta in mente una domanda nella lezione 9 se non sbaglio alla fine c'era la parte riguardante la rincorsa d'attacco che però non l'hanno trattato per mancanza di tempo ma l'hanno recuperata dalla lezione 11 quindi quella parte lì è compresa o no? nell'esonero? ah questa è una buona grande grazie Giulia per la per la delucidazione non l'avevamo possiamo anche decidere l'ambio ufficiale adesso quindi possiamo facciamo una cosa la escludiamo va bene decido io ok? escluda quella parte lì perché non l'avevamo fatto non ci saranno domande sulla rincorsa d'attacco ok? ok grazie perfetto ve lo segno che così almeno non andiamo incontro a problematiche se non ci sono altre altre questioni prendiamo un attimino di pausa che così mi accerto di quello che mi deve dire la collega del modulo di basket e ci ricolleghiamo se volete che parliamo poi della lezione passata senza alcun tipo di problema ci mettiamo lì e vi erogo quella quella parte frontalmente se no vi do la comunicazione che se eventualmente c'è qualche aggiornamento e vi congedo va bene? datemi soltanto 5 minuti facciamo 11.25 ripartiamo con la call mi ricollego va bene? tra poco ve lo scrivo anche in chat 11.25 ripartenza ripartiamo Grazie a tutti. 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 Buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.